Tanta, 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 tanta gente che non ci aspettavamo. Alla fine Messina è viva, Messina c'è e non è soltanto quello che sentiamo dire ogni giorno e siamo gli ultimi classifici, i penultimi. Oltre i bandi su sei dei DJ. Primo giorno c'è stato un bellissimo DJ7 di Davide Patania. A seguire c'è stato un live con Salva Albano e la soluzione, informazione completa, che ha fatto veramente ballare fino alla fine, anzi non riusciva a scendere dal palco perché la gente lo incitava. Come è stato ieri anche c'è stato un DJ7 con Alfredo Reni, sempre di storico DJ di Messina, con i Malantisa. Stasera l'evento in programma sarà doppio DJ con sempre Stefano Falcone e Bruno Blandina e poi avremo una doppia band con i Big Mimma che presenteranno il loro CD e poi a seguire i Fori Orario. domani ci sarà la serata conclusiva con Ellen Brown, il DJ conosciuto a livello europeo, diciamo nostra messinese, e poi a seguire ci saranno a chiudere i Vanamotore.